Giuseppe Sauca, finale partita Ionica batte Gesca al 3-0, la vostra squadra è ripartita oggi bene dopo la sconfitta subita mercoledì? Sì, non avevamo dubbi che saremmo riusciti a ripartire di nuovo colpiglio giusto perché non siamo abituati a perdere, dopo 49 risultati utili conseguti ci stava che ripartiamo con un secco 3-0, giocando bene e sfruttando, diciamo, dobbiamo essere più concreti sotto porto. Oggi la difesa non ha subito gol, avete giocato bene e tu hai fatto una grande prestazione. Sì, diciamo che prendo spunto dai pilastri delle nostre difese che sono Max Erasipenko e Gianluca Sanfilippo che mi danno tranquillità quando ho la palla nei piedi e diciamo è molto più facile giocare accanto a loro. Oggi Gesca le si è espresso abbastanza bene per buona parte del primo tempo, poi un autogol gli ha fatto un po' abbassare come capacità di gioco. Sì, sì, ma noi quello che ci manca a ogni partita è diciamo appena troviamo il gol ingraniamo come si vuol dire, ci viene tutto molto più semplice, giochiamo tranquillamente e arriviamo facile in porto. Ok, grazie.